Il pasticcere Jonathan Pagano, proprietario della pasticceria Dolci Tentazioni da Jonathan, ha ricevuto una certificazione di eccellenza imprenditoriale. La premiazione è avvenuta a Sanremo a margine del Festival della Musica, da parte di uno dei maggiori critici gastronomici italiani ed esponente della Federazione Cooking Show, Michele Cutro. Il pasticcere valdianese ha oltre dieci anni di esperienza nel mondo dei dolci, iniziati dopo gli studi alla scuola alberghiera e la frequentazione di corsi di pasticceria. Nel 2019 ha realizzato il suo sogno di aprire la pasticceria Dolci Tentazioni da Jonathan a Sala Consilina, dove con i suoi dolci unisce tradizione e innovazione. La cura e la dedizione che Jonathan impiega nella preparazione dei prodotti, si legge sulla pergamena, si riflettono nel gusto travolgente dei suoi dolci, conquistando il cuore dei suoi clienti. Ringrazio Michele Cutro, ha commentato Jonathan, per questa esperienza ho avuto modo di far conoscere le mie dolci preparazioni a cantanti, giornalisti e speaker radiofonici. È un'esperienza che porterò nel cuore e che resterà nel mio cassetto professionale.